Gossip Itavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Eros Ramazzotti è di nuovo single? Questo è l'interrogativo sollevato dal settimanale Chi, che nella rubrica chicche di gossip di questa settimana ha insinuato la presenza di una crisi profonda tra il famoso cantante e la sua fidanzata Dalila Gelsomino, ex modella 35enne e oggi attiva nell'organizzazione di eventi. La coppia, insieme da circa un anno e mezzo, era uscita allo scoperto nel marzo 2023, quando si era scoperta l'identità della donna che aveva fatto innamorare Eros dopo il divorzio da Marika Pellegrinelli. Nonostante le numerose dimostrazioni pubbliche della loro felicità e i rumors su una presunta gravidanza di Dalila, prontamente smentiti, Chi ora racconta di un'aria di tempesta tra i due. Il magazine sottolinea che, nonostante i tentativi di ricucire il rapporto, la crisi sembra ormai profonda e duratura, al punto che la coppia non si seguirebbe più nemmeno sui social. Recentemente, un video di Dalila, che mostrava Eros intento a richiamare la sua attenzione durante un concerto, aveva suscitato simpatia senza lasciare intravedere le attuali tensioni. Dalila Gelsomino, nata a Milano il 6 marzo 1989, ha studiato al liceo classico Beccaria e ha condiviso il banco di scuola con l'attrice Matilde Gioli. Laureata in economia e gestione di beni culturali e dello spettacolo all'Università Cattolica, ha poi ottenuto una borsa di studio alla New York University at Albany. Dopo una breve carriera come modella, ha iniziato a lavorare dietro le quinte del mondo dello spettacolo, organizzando eventi e cantando nei locali per qualche anno. Dal 2016 vive a Playa del Carmen, in Messico, dove lavora nel settore immobiliare. Li avrebbe incontrato Eros Ramazzotti e, secondo alcune indiscrezioni sui social, i due erano già insieme dal 28 ottobre 2022, giorno del compleanno di Eros. Negli ultimi mesi, Dalila ha conosciuto i figli di Eros e ha mantenuto un rapporto amichevole con Marica Pellegrinelli, la sua ex moglie, dimostrato da un dolce omaggio inviato a quest'ultima dopo la nascita del suo nuovo figlio.